Lo stemma fa parte del complesso decorativo ostituente e il fastigio della finestra del piano nobile. Incorniciatura a volute e cartigli intrecciati con festoni di fiori. Si tratta di un pezzo settecentesco, pregevole soprattutto per l'invenzione dell'incorniciatura a volute e cartigli intrecciati con festoni di fiori. La famiglia Amati appartiene alla nobiltà pistoiese, è documentata dall'anno 1350 e proveniente da Quarrata. L'originaria denominazione della famiglia è Amati, solo in seguito Amati.